sulla testa arrivano i mercati gli animali più buffi che ci siano centinaia di ore di riprese per un evento senza precedenti che rivoluziona la nostra visione del mondo animale vivilo in hd o con la spettacolare esperienza del 3d tutti per uno uno per tutti mercati le sentinelle del deserto in prima visione l'undici febbraio alle 21 su neggio wild hd e in contemporanea su sky 3d grazie